Benvenuti, grazie! Siamo tornati con un nuovo episodio di DISEGNER IL POKEMON! Siamo tornati con un nuovo episodio di DISEGNER IL POKEMON! Yes! Mamma mia, quanto tempo è che non lo facevamo? Comunque hai detto, ma lo inizio io, no, per cazzo! Lo inizio io! Sì, certo, sei via quelli facili, lui, eh! Faffanculo! Eh sì, due palle, un cazzo, poi... Finito! Si capisce comunque! Le sette sfere del drago, che so! Uno è mascherato, guarda il carnetale, manca 20 secondi! Sti cazzo, a questo vi faccio un sorriso! Bam! E' uno coccia dopo, il nostro Pokémon! Eh sì, è il nostro EXG-CUTE! Però non è il nostro, però vabbè! No vabbè, trafissimi! DRO THE NEW POKEMON! E' un esempio questo, i cari da lui! Allora... Era tanto che non disegnavo! Qualcosa di mostruoso! Sai tranquillo, guarda! Qualcosa di ancora più mostruoso! Sai zitto! Ecco questo, sai capiscire tutto! Vabbè! Difficile! Mamma mia, quanto so bravo! Sì, sì, guarda! Perfetto proprio! Qualcosa di orrendo! Ma che cazzo gli fatti i baffi? Eh, zitto! Speramente qualcosa di orrredo! LE GAMBE! Orrido! Vabbè, POLYWILL, dai, si è capito, su! No! Si, si si! Si, si si! Si, si si! Poteva essere anche POLYWILL! Anche POLYWILL! Anche POLYWILL! Cos'è questo grande? È il ciuffo! Il ciuffo! Si, perché? Ma dove sta il ciuffo? Non c'è stato! Io ho messo io! Però da ne è venuto male! Eh, se facevi la buca cura e quell'altro! Vedi, ho fatto! Ho poco cazzo! Non cazzo! Non cazzo! Non cazzo! Non cazzo! Eh, wheezing comunque! Figo questo! È l'evoluzione dell'altro! Small quid every day! Cioè, io volevo sì! Tutti uguali, so! Basta un po'! I colori proprio ma cazzo te cagli! Eh, lo so! Eh, vabbè! Che cazzo so quelle! Che so! Ma che cazzo! Come un bambino proprio! Exeggutor! 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 Questo si esce! Ha fatto! Ma che è? È una cosa ostruosa! Perché? Ma poi sono io che fuso i colori a cazzo! Sti cazzo! Eh, perché c'è il bianco? Forse c'è il bianco qua! Ma c'è il nero però! Sti cazzo! Il cortosco cast! C'è la bocca pompino! Two man one piece! Poi one man! Brutta cosa! Ok! Ok! Che colore stupido! Sono i colori perfetti! Cioè mi pare un coso! Stai presente quelli che è? Sono un fenomeno! Sono giotto! Come lo faccio questo? Inventa! Ecco! Ho già inventato male! Ma come lo faccio? Ok! Ora! C'è una voglia troppo bella! Puoi sapere quale? No! Eh! Basta c'è! Che merda! Come si fa a fa questo? È tutta una roccia! C'è? È una roccia! È bello che non è roccia! Però vabbè! No! 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 Cosa fai? Che... Che so ste cose! C'è! È uguale dai! Sì! È uguale che dovrebbe essere Iorn! Iorn! Quest'anno anche i pokemon dancing! Si! Oh! È bello! Vai! Eh! Pezzo di merda! Oh! Per una volta mi dice bene a me! No! Poi te la dico una cosa! Cos'è? Un casco? Si! Alla fine si! Pare tipo i funghetti di Super Mario! Il casco è quello lì del motorino però! Non integrale! La scodella! Si! La scodelletta! Ok! 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 Adesso pare più un altro paretod adesso! Olè! Hai gambuto penso di merda! Ahahahah! Nooo! Questo è troppo difficile dai! Non posso farla! Non posso farla! Non posso farla! Non posso farla! Poi dice almeno... Come faccio a fa sta cosa? E' riuscita a farla brutta! Cioè incredibile! Finita raga! Che so, la luce L'effetti luce Difficilissimo Autodistruzione Una Voltorb Si sta mettendo un impegno Attenzione, se non è già si è capito Si 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 Mamma mia Si è un po' ruinato Sto a fare il coso Oddio Oddio, si è capito Però Però sto sempre meglio io Beh beh guarda, quello è poco ma sicuro Sei riuscito a fare un volto di merda Questo però è un po' depresso Un po' fisso Ok, ultimo pacchetto Ultimo disegnetto Dovevi fare più forza di me con pacchetto Che carino Io vorrei sempre preso a destra Non lo so perché mi sta poco sul cazzo Ok, fino a qui ci siamo Può bastare anche questo Credibile scelta di colori eccezionale per lui Ok, ok Guarda che non è che dalla che partiva il corpo Ok E si Cioè tu hai fatto l'occhio laggiù No regà mi ci rinuncio Ma che Ma che Ma che Ma che Ma che Sul culo Giustamente Ci sta Doveva essere un bulbasauro una volta Però non so cosa è uscito fuori Perché è veramente qualcosa di orrendo Cioè vabbè Vabbè questo era l'ultimo fortunatamente Perché sennò andavamo delirando sempre di più Mi raccomando lasciate like Se sta disperandolo Lasciate like Commentate Supportate questa serie Da Gran S è tutto Bella Ciao Ciao Ciao